E' decisamente lungo l'elenco di operazioni antimafia che hanno riguardato la Repubblica di San Marino messa in fila dall'ultimo rapporto della Fondazione Caponnetto, clan di organizzazioni criminali se italiane che straniere i cui affari hanno riguardato molteplici ambiti, dal riciclaggio al traffico di droga e armi. Le chiusure di esercizi commerciali e i cambi di gestione dovuti alla crisi hanno aiutato le mafie in tutta la penisola, un fenomeno che non ha schivato San Marino. Per questo il rapporto parla di italianizzazione dei fenomeni criminali sul Titano. San Marino non è più vista solo esclusivamente come una piazza finanziaria ma è vista anche come un luogo dove la crisi ha reso appetibili l'acquisto di negozi, centri commerciali, alberghi, ristoranti come in Italia. E sempre della crisi potrebbero approfittarsene gli stranieri. Il rischio è quello che approfittando della crisi un grosso gruppo internazionale di criminali possa decidere di in qualche modo comprare a pezzi il paese. E questa è solo un'analisi, non è che ci sono prove in questo senso, ma l'analisi è sempre meglio farle per poi ridurre eventuali acquisizioni.